Vediamo subito cosa è WordPress. WordPress è una piattaforma gratuita scaricabile online e accessibile a tutti. Quindi anche se non sei uno sviluppatore puoi scaricare WordPress e iniziare a creare un sito internet. WordPress infatti fin dalla sua nascita nel 2003 prende subito una fascia di mercato molto ampia ovvero quella della realizzazione dei siti internet e lo fa in maniera molto rapida e molto aggressiva. La vera rivoluzione infatti sta nel fatto che WordPress consente a chi non è uno sviluppatore PHP o HTML di realizzare un sito internet anche senza conoscere alcuna regola di codice. WordPress nasce anche come community infatti dà a chiunque la possibilità di condividere le proprie esperienze, i propri punti di forza e perché no anche i propri segreti. Grazie a WordPress abbiamo inoltre a disposizione migliaia di temi e di plugin con i quali definire l'aspetto estetico del nostro sito in maniera completamente autonoma ed estremamente semplice. Ma non finisce qui. WordPress non mantiene il sito chiuso all'interno delle sue mura ma permette a sviluppatori o a programmatori di poter implementare maggiormente il sito internet. Insomma grazie a WordPress non abbiamo e non avremo mai limiti. Un sito internet potrà raggiungere giorno dopo giorno obiettivi sempre più grandi. Abbiamo quindi visto cosa è WordPress e come funziona. Ok non siamo ancora entrati nei dettagli ma entreremo molto presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.